L'Abruzzo continua a soffrire sotto il peso di un caldo torrido con temperature che raggiungono picchi estremi in tutte le zone della regione. I valori registrati ieri sono simili a quelli record dei giorni scorsi, con la colonnina di mercurio che supera i 39 gradi in alcune zone interne. L'afa opprimente rende ancora più difficile sopportare questa ondata di calore, che non accenna a diminuire. Anche le zone montane non sono risparmiate, con temperature che superano i 30 gradi anche a quote elevate come Arrocca Calascio, Castel del Monte, Pesco Costanzo, Santo Stefano di Sessanio e Scanno. L'intenso caldo, unito al decremento di portata delle sorgenti, ha portato a un aumento dei consumi idrici, creando una vera e propria emergenza. I gestori del servizio sono stati costretti a programmare chiusure e riduzioni del flusso in diverse zone, causando disagi per la popolazione. Nonostante le temperature elevate, il Centro Funzionale d'Abruzzo della Protezione Civile definisce basso il rischio incendi in tutte le province. Tuttavia, Pescara è tra le città italiane con il bollino rosso del Ministero della Salute, che indica condizioni di emergenza sanitaria a causa dell'ondata di calore. Per la città adriatica si prevedono ancora tre giorni con il livello 3, con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive, in particolare anziani, bambini e persone con malattie croniche. Le autorità invitano la popolazione a prestare attenzione e ad adottare alcune precauzioni.